Ciao, sono Caterina Rocchi di Lookamanga School. Cosa facciamo a Lookamanga School? Facciamo corsi di manga in sede e online. Stratego ci aiuta a portarli al mondo. La nostra azienda stava già andando bene, però sapevamo che potevamo fare di più, solo che non sapevamo come fare a fare di più. Quindi ci siamo rivolti a Stratego per ricevere un aiuto mirato per portare a più persone possibile il nostro messaggio, chiunque può imparare a disegnare. Già facevamo Google Ads sponsorizzate su Facebook, ma il nostro problema è che non siamo professionisti del marketing, siamo professionisti del manga. Il nostro lavoro a livello di marketing non era professionale, soprattutto andava a prendere del tempo che avremmo dedicato alle nostre lezioni. Quindi è diventato indispensabile trovare qualcuno a cui poter affidare questa parte così importante del marketing e che potesse farlo in maniera professionale. La nostra scelta è ricaduta su Stratego SWOT inizialmente attraverso Giampaolo, perché nelle nostre ricerche di marketing l'abbiamo conosciuto e ci è sembrata una persona molto schietta. E da lì siamo approdati a Stratego e questa schiettezza l'abbiamo trovata anche nel resto del team. Questa cosa per noi è stata molto importante perché ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi senza perdere tempo, perché ci dicono le cose come stanno e noi a quel punto possiamo eseguire gli ordini senza girarci intorno. Ci è piaciuto molto il fatto che non accettassero delle aziende in cui non vedessero delle possibilità di crescita. Questo significa che ci siamo legati a un'agenzia che ha creduto in noi e infatti i risultati si sono visti immediatamente, in maniera anche molto più esplosiva di quanto non ci saremmo mai aspettati. Uno dei nostri traguardi più importanti è stato raddoppiare il fatturato. Una cosa che ci avevano anticipato già dall'inizio, al primo colloquio ci hanno chiesto se raddoppiaste la vostra clientela, ce la fareste a reggere il lavoro? E noi abbiamo detto di sì molto leggermente perché non ci aspettavamo che sarebbe successo davvero, ma è successo davvero e ci aspettiamo che in estate vada anche a salire questa percentuale perché poi tanti dei nostri corsi sono in estate. Questo è il nostro primo traguardo ma me ne aspetto tanti altri. Stratego ha creato per noi tre bellissime landing page che ci hanno immediatamente aiutato a raggiungere un sacco di persone in più. Abbiamo potuto ampliare il nostro raggio e inoltre ci hanno anche aiutato nella parte invisibile di organizzazione della nostra mailing list, di tutte le cose accessorie e invisibili al marketing, il che ci ha permesso anche di migliorare il nostro servizio di vendita. Una parte del servizio che ci è piaciuta particolarmente è stata l'assistenza continua. Eravamo sempre monitorati, non solo ci dicevano che cosa fare, ma si assicuravano anche che lo facessimo. Infatti in ufficio le abbiamo affettuosamente soprannominati i mastini perché ci hanno proprio preso e non ci hanno più lasciato. Questa cosa ci ha dato un sacco di sicurezza perché sapevamo che avevamo il loro aiuto in tutti gli step del percorso. Il nostro grado di soddisfazione è 10, tanto che abbiamo ampliato i servizi per i quali ci appoggiamo a Stratego e rinnovato il contratto perché è stato veramente un ottimo servizio.